Al progetto originario di Dio che ci è manifestato attraverso la creazione, atto del suo amore per l'umanità, continuamente è necessario fare riferimento per la vita dell'uomo, per la vita del discepolo e questo progetto ci parla di una comunione d'amore che deve realizzarsi, costruirsi, ecco, tra l'uomo e la donna, tra l'uomo, la donna e il creato, un rapporto armonico di bellezza, un rapporto vitale che deve caratterizzare tutto il cammino e questo progetto originario, questo progetto d'amore, questo progetto di comunione, lo si vive attraverso la storia, attraverso la ferialità e lo si vive attraverso questo rapporto che intercorre, come ci ricorda il Vangelo, tra l'uomo e la donna, tra l'uomo e la donna che costituiscono una comunione d'amore e per l'amore, è una comunione generante vita, è una comunione generante relazioni nuove, straordinarie, sorprendenti di giorno in giorno. Il cammino poi dell'umanità, il cammino dell'uomo, a causa della fragilità, a causa del peccato, a causa del male, si discosta da questo progetto originario. E allora questo suscita, nell'ambito della vita, nell'ambito della storia stessa, ecco, di intervenire attraverso di alcuni elementi. In questo rapporto d'amore, che è il rapporto nuziale, al quale la Bibbia fa sempre riferimento come qualcosa di straordinariamente bello ed entusiasmante, ecco, Mosè interviene nella legge mosaica, permettendo, dice, che questo legame possa essere sciolto al verificarsi di determinate situazioni, di determinati fatti. Ma, dice Gesù, è per la durezza del vostro cuore che Mosè ha scritto questa norma. E ha scritto questa norma perché voi vi siete allontanati da questo progetto d'amore originario, il quale indica, il quale mostra quale sia la via per vivere questa relazione armonica. è una relazione vissuta nella unità, nella indissolubilità, nella fedeltà, nell'apertura alla vita. E se l'uomo si è separato da questo, non deve mai dimenticare, però, che il Signore ha, nel suo progetto originario, ha detto che non si può, non è possibile dividere quello che Dio ha congiunto. Ed è congiunto attraverso il sacramento, dono d'amore. È congiunto attraverso la sua parola, che deve continuamente alimentare e sostenere il cammino dei discepoli. Oggi tutti noi esperimentiamo quanto sia difficile, sia problematico, ecco, la vita della famiglia. Lo è sempre stata, certamente. Oggi, nel mondo contemporaneo, queste difficoltà sono difficoltà per tutta una serie di motivi molto più emergenti. Ma non per questo la famiglia cessa di essere, ecco, il luogo generante dell'amore, della vita. La famiglia non cessa di essere continuamente richiamo a questo progetto originario di Dio, consapevole che è proprio attraverso il dono del matrimonio, attraverso il sacramento, che si rafforza, si rinvigorisce questa relazione sponsale, questa relazione d'amore. E nella difficoltà della quotidianità, credo che la vocazione della famiglia ad essere questa comunità d'amore, questa comunità generante, la vita, sia sempre un elemento fondamentale, da non perdere mai di vista, ma di cercare di realizzarlo con gioia e con libertà. Il progetto originario di Dio è un progetto che coinvolge fino in fondo l'uomo. E a questo progetto l'uomo deve aderire con tutte le proprie forze, anche con le proprie fragilità, con tutti i problemi che conosciamo. Ma senza dimenticare mai, ecco, che la grazia, la forza del sacramento celebrato continuamente opera dentro di noi, perché davvero la vita possa essere sempre una vita bella, relazioni belle, mai stanche, mai infiacchite, ma continuamente vibranti, ecco, di quella vitalità della creazione originale.